Il Molise sarà una delle regioni che entrerà in zona bianca secondo la bozza del primo monitoraggio. In queste ore la firma del ministro della salute Roberto Speranza che segue la decisione adottata dai presidenti delle regioni nell'ultima conferenza che hanno stabilito le regole da adottare nella nuova colorazione. Per quanto riguarda il Molise, a quanto si apprende dal documento, l'indice di contagio è di 12,1 contagiati su 100.000 abitanti con l'indice RT a 0,78. La percentuale di occupazione delle terapie intensive è al 10% mentre quella in aree mediche è al 7%. Sono tutti valori che consentono il cambio di fascia per prime alle tre regioni Molise, Friuli e Sardegna e poi a tutte le altre che avranno le condizioni per poterlo fare. Questo significa a partire dal primo giugno la fine del coprifuoco, la riapertura delle piscine al chiuso con il divieto di usare le docce, la riapertura delle sale gioco e scommesse, dei parchi divertimenti e di tutto ciò che ruota attorno ai matrimoni. Pure le discoteche potranno riaprire le porte anche se la decisione sarà presa in accordo con il comitato tecnico scientifico ma solo per offrire servizio bar e ristorazione. Per le piste da ballo bisognerà attendere ancora un mese il primo di luglio. Per bar e ristoranti resteranno in vigore tutte le misure anti covid quindi il distanziamento dei tavoli e l'impossibilità di consumare in piedi anche con il coprifuoco abolito per rendere meno possibili gli assembramenti. Intanto Tom ha confermato che da lunedì potranno prenotarsi per i vaccini anche i cinquantenni e i quarantenni. Confermato per il 2 giugno la stradei nel quale sempre dopo prenotazione potrà vaccinarsi chiunque ne abbia fatto richiesta. L'obiettivo è completare la somministrazione della prima dose entro la fine di giugno.